A volte mi guardo intorno e mi sento solo, ma veramente solo. Voglio dire, anche quando sono in una piazza piena di gente, allo stadio, o a una manifestazione per salvare qualche animale in qualsiasi parte del mondo. Sì, perché spesso vado a qualsiasi manifestazione, sciopero o ritrovo che incontro per caso nel corso della giornata, pur di stare in mezzo alla gente. Qualche volta mi metto perfino in fila alle poste, pur di non sentirmi solo. E alla fine mi sento solo. È incredibile, ma riesco a sentirmi solo anche il primo giorno dei saldi stagionali. Quando la città praticamente si trasforma in un'unica fila di persone, mi accodo a tutte, dalla mattina alla sera. E, alla fine, comunque, mi sento solo. È strano, perché sono in mezzo a tanta gente. Ci tocchiamo spalla a spalla. Posso percepire la loro energia, il loro odore, a volte anche il loro calore. Ma si è soli. Siamo tutti soli. Non si comunica. A volte ci si parla. Ci si deve parlare per forza. Dopo essersi fissati per minuti, altrimenti si viene presi per pazzi. Ma questo non è comunicare. Comunicare è altro. E quando, senza parlare, riesci a comunicare. La forza del pensiero. Quando guardi intensamente qualcuno e sai perfettamente che quella persona ha capito cosa ha in mente. Lo sa. È chiaro. Palese. Come se lo avessi detto ad alta voce. Ma in realtà non lo hai fatto. E' in questi casi che si è comunicato. Questo è comunicare. Io lo dico sempre. Lo dico a tutti. Anche al mio dottore. E anche lui mi crede. E, per regalo, dalla gioia, mi ha dato delle gocce che, secondo lui, dovrebbero aiutarmi a non farmi sentire solo. Ha detto. Ti faranno sentire meno solo. Boh. Io ci provo a parlare con loro e a condividere quasi tutto quello che faccio. Ma mi sento scemo ad avere delle gocce come migliore amico. Anzi, forse dovrei dire come migliore amica. O forse sarebbe meglio dire come gruppo di amiche. Gocce plurale amiche. No. Non credo che io possa avere un gruppo di gocce come amiche. Mi sentirei in imbarazzo ad andare tutti insieme al cinema o in un museo o al supermercato. Ma dove vuoi che vada con un gruppo di donne al seguito? Dai, ingombrante, no? Però anche andare sempre in giro da solo o stare allo stadio a vedere che tutti si divertono e parlano con le persone vicine è dura da accettare. Anche io vorrei gente con cui parlare. Il dottore dice che basta aprire bocca e parlare e qualcuno vicino poi ti risponde. Ovvio. Io non lo trovo tanto ovvio e credo che il dottore non stia bene. A volte lo lascio parlare perché penso che abbia bisogno di parlare con qualcuno anche lui. Mi sembra una persona molto sola. Forse anche lui usa queste gocce e si sente in imbarazzo perché spesso fa decenni verso un grande specchio appeso su una parete dello studio credo che parli con le sue gocce. Uno di questi giorni dovrei spiegargli come funziona la vita. Voglio dire non necessariamente uno deve avere degli amici. E poi in fondo siamo tutti amici. siamo tutti nella stessa barca. Si nasce e si muore. E io posso farmi il problema di sentirmi solo? Ma dai! Andiamo gocce! Altrimenti facciamo tardi. Stasera vi porto a teatro.